Verso l'una e mezza della mattina del 19 luglio, Conchita uscì di casa in estasi. Girò un angolo della strada e poiché la folla laserava da tutte le parti, cadde in ginocchio in una stradina adiacente. In quello stesso momento mise fuori la lingua. Coloro che si trovavano a pochi centimetri di distanza attestarono che sulla lingua non c'era nulla. All'improvviso, e ad una velocità superiore alla percezione dello sguardo umano, un'ostia bianca e splendente apparve sulla lingua della bambina. Il signor Alejandro Damian di Barcellona ebbe la possibilità di far funzionare la sua cinepresa e riuscì a filmare 79 fotogrammi che fanno vedere l'ostia sulla lingua di Conchita. Qui abbiamo un miracolo annunciato in antecedenza, avveratosi e addirittura documentato in un filmato per servire come prova dell'autenticità degli eventi di Garabandal. Nel mese di ottobre 1962, a 1500 chilometri da Garabandal, stava iniziando un altro grande evento storico che avrebbe causato ripercussioni senza precedenti in tutta la Chiesa Cattolica. Papa Giovanni XXIII aveva appena aperto il concilio ecumenico Vaticano II. La domanda che tutti si chiesero era ovvia. C'era una relazione tra questo monumentale evento ecclesiastico e gli straordinari eventi che avvenivano nel piccolo villaggio montano nel nord della Spagna? La risposta è un sì assoluto. Tuttavia l'intero significato di questa relazione si sarebbe svelato solo nel futuro. Durante un'estasi si udì Conchita che ripeteva le parole della Madonna. Sarai il più grande concilio? Sarà un successo? Bene, così ti conosceranno meglio e tu sarai più contento. Nel mese di gennaio 1963 le visioni finirono per Maria Loli, Iacinta e Maria Cruz. Solo Conchita continuò ad avere le visioni ma queste erano diminuite in numero e non avvenivano con la stessa frequenza. In questo periodo tuttavia Conchita e Maria Loli cominciarono a sperimentare le locuzioni. La locuzione è una voce interiore senza essere accompagnata dalla visione. Nel 1947 Gioi Lomangino perse la vista e il senso dell'olfatto in uno strano incidente che distrusse i suoi nervi ottici e dell'olfatto. Dopo un lungo e penoso periodo di riadattamento nel 1961 divenne un prospero uomo d'affari ma molto stanco per il lavoro stressante. Il suo medico curante gli suggerì di prendersi una vacanza in Europa. Insieme ad alcuni amici Gioi lasciò la sua casa in Linderost, New York per andare a visitare uno zio che abitava a Bari, nell'Italia del Sud. Allora Gioi non era molto religioso e solo sulla continua insistenza dello zio acconsentì a fare un lungo viaggio in macchina che lo portò a San Giovanni Rotondo dove viveva Padre Pio. Il famoso e santo frate francescano che portava le piaghe di Cristo nelle sue mani, ai suoi piedi e al suo costato. Gioi tuttavia non si aspettava un incontro personale. Dopo la Santa Messa lui si diresse in un'aula del convento insieme ad altre persone per ricevere la benedizione del Padre quando sarebbe passato. Appena Padre Pio entrò nella stanza tutti ci incinocchiamo per ricevere la sua benedizione. Padre Pio stava venendo dal lato sinistro della stanza. All'improvviso sentì un movimento di ginocchi ed io, come pure gli altri, non sapevamo cosa stesse accadendo. Padre Pio mi aveva abbracciato e cominciò a baciarmi sulla fronte. Lui mi disse Gioi, sono contento di vederti. Mio zio poi mi disse che era stato Padre Pio ad abbracciarmi ed io non sapevo cosa dire dal momento che ero quasi l'ultimo là dentro e nessuno, nemmeno io stesso, sapevo che andavo da Padre Pio. Gioi rimase profondamente impressionato e due anni dopo ritornò a San Giovanni Rotondo. Questa volta decise di andare a confessarsi da Padre Pio. Andai da Padre Pio nel confessionale e mi inginocchiai sull'inginocchiatoio. Padre Pio era seduto proprio di fronte a me. Mi prese per mano. Così ed io rimasi molto sorpreso perché pensavo che fosse un confessionale tipo americano con lo scompartimento. Così quando mi inginocchiai e Padre Pio mi prese per mano lui mi disse in italiano Gioi, confessati. Ad essere onesto io ero imbarazzato perché non stavo conducendo una vita retta e rimasi tutto spallordito. Non sapevo proprio che cosa dire. Allora Padre Pio prese la mia mano così e disse confessati e di nuovo trovai che mi era semplicemente molto difficile parlare con lui. Allora in perfetto inglese mi disse Gioi ti ricordi quando eri in un bar con una donna che si chiamava Barbara ti ricordi i peccati che hai commesso e in perfetto inglese mi descrisse tutto la gente con cui ero i luoghi i peccati da me commessi. Ovviamente io stavo sudando però con la grazia di Dio capì che se dovevo soffrire tutto questo per essere di nuovo felice ne valeva la pena. Credevo davvero che Padre Pio poteva aiutarmi perciò quando toccò il fondo di tutti i miei peccati e a me sembrò che fossero passati mille anni lui mi disse in italiano sei pentito ed io risposi sì sì Padre lo sono allora mi diede la soluzione per i miei peccati e i miei occhi cominciarono a girarmi nella testa io cominciai a stropicciare gli occhi così la testa mi girava ed io continuai a stropicciare gli occhi e la testa continuava a girarmi poi all'improvviso il mio stato d'animo fu tutto rasserenato e lui mise la sua mano stigmatizzata così verso le mie labbra io la baciai lui mi diede uno schiaffetto sulla faccia e in italiano mi dice Joy un po' di pazienza un po' di coraggio e tutto andrà bene avevo 33 anni ma mi sentivo come un sedicenne avevo un forte proposito di riparare mi ero pentito di tutti i peccati commessi nella mia vita mi sentivo così bene così pulito che non volevo coinvolgermi più con nessuno perché avevo paura che col solo parlare potevo perdere la grazia che avevo appena ricevuto tuttavia Joy non sapeva che c'era ancora un'altra grazia riservata per lui quando insieme agli altri si inginocchiò di nuovo per ricevere la benedizione di Padre Pio quando ebbi questa ferita qui nel 1947 persi il senso dell'olfatto e questo è stato tutto cucito questa è una frattura di 7 centimetri sotto la fronte non solo persi gli occhi ma anche l'olfatto quando mi inginocchiai per ricevere la benedizione di Padre Pio sentii il profumo delle rose che proviene dal sangue delle sue mani quando ricevetti quella fragranza mi spaventai indietreggiai verso il muro con le mani alzate così per proteggermi non sapevo che cosa fosse Padre Pio abbassò la mia mano e mi disse in italiano Joy non aver paura e mi toccò il ponte del naso così e il mio senso dell'olfatto fu ristabilito dopo averlo perduto dal giorno del mio incidente nel mese di giugno 1947 cioè 16 anni fa Joy Joy era ripieno di pace e di gioia e non voleva lasciare San Giovanni Rotondo tuttavia il suo compagno di viaggio gli ricordò che avevano già stabilito di spendere parte della loro vacanza in un luogo chiamato Garabandal quando Mario mi ricordò che dovevo partire per andare a Garabandal dissi Mario come sappiamo se è vero forse non è una vera apparizione forse è un trucco del demonio per farmi perdere la grazia che ho appena ricevuto andiamo a chiederlo a Padre Pio così lui disse ok poiché i confratelli di Padre Pio ci avevano sempre trattato bene andammo da loro e io dissi vorrei parlare con Padre Pio è ok con voi e il padre disse ok così prendemmo provvedimenti e quello stesso giorno ritornammo e salutammo Padre Pio che era nel chiostro in genocchiato mi chiesi a Padre Pio Padre Pio è vero che la Vergine sta apparendo alle quattro bambine di Garabandal lui rispose sì e io dissi Padre Pio devo andare lì e lui mi disse sì perché no e così avvenne tutto poiché avevo ricevuto l'assicurazione del Padre Pio che la Vergine stava apparendo e che lui mi permise di andarci allora non ebbi più alcun timore e vi andai il mese di febbraio 1963 doveva segnare l'inizio delle tante visite che Gioilo Mangino fece a Garabandal a quel tempo specialmente durante i mesi invernali l'unico modo per raggiungere il villaggio attraverso la serpeggiante mulattiera di montagna era tramite un carro trainato da buoi Gioi non dovette aspettare a lungo nel villaggio prima di incontrare le bambine cui appariva la Madonna e fu subito colpito dalla loro semplicità e sincerità in seguito Conchita sarebbe diventata una sua stretta amica Gioi fu pure colpito dall'importanza del messaggio e dalla necessità di farlo conoscere ma si sentì handicappato dal suo stato fisico Dissi a me stesso cosa posso fare per meglio far conoscere nel mondo padre Pio e Garabandal cosa posso fare cosa può fare una persona cieca nemmeno a scuola ero mai stato in un dramma teatrale tanto ero timido Gioi tornò a casa preparò un album con foto di padre Pio e le bambine di Garabandal in estasi sottolineate da intestazioni in carattere braile poi cominciò a girare per le case di amici e familiari parlando loro del famoso padre stigmatizzato e degli eventi straordinari che avvenivano a Garabandal da questo piccolo seme sarebbe poi cresciuto un apostolato mondiale all'inizio del mese di giugno 1963 Concita sbalordì i presenti con la profezia che dopo papa Giovanni XXIII ci sarebbero stati solo tre papi e che poi sarebbe avvenuta la fine dei nostri tempi ma non la fine del mondo il 19 marzo 1964 festa di San Giuseppe mentre si trovava presso i Pini Concita ebbe una locuzione in cui la Madonna le disse che il giorno del grande miracolo Gioilo Mangino riacquisterà la vista e da allora potrà vedere permanentemente il 18 luglio 1964 Concita ebbe un'altra locuzione in cui le fu rivelato che il giorno dopo il grande miracolo il corpo di padre Luis Andreu sarà trovato incorrotto nella sua tomba il mese di gennaio 1965 iniziò per Concita con un'estasi di due ore presso i Pini durante questa estasi la Madonna le rivelò la natura dell'avvertimento che Dio darà per purificare il mondo in previsione del grande miracolo che seguirà lei disse pure a Concita che poiché il mondo non aveva dato ascolto al suo primo messaggio lei avrebbe dato un secondo ed ultimo messaggio il 18 giugno 1965 per intercessione dell'arcangelo San Michele esaminiamo ora i grandi eventi profetizzati a Garabandal il primo sarà l'avvertimento questo sarà visibile nel cielo e poi sentito interiormente da tutti sulla terra nessuno potrà evitarlo in un futuro non molto lontano quando il mondo si troverà nel pieno di una grande agitazione generale ad un tratto tutto si fermerà in quel momento tutti vedranno il male che hanno fatto e il bene che hanno trascurato di fare sarà estremamente doloroso la gente preferirebbe morire piuttosto che subirlo non causerà danno fisico se qualcuno morrà sarà solo a causa dello shock nel vederlo l'avvertimento servirà come una purificazione per correggere la coscienza del mondo e per prepararlo al grande miracolo il miracolo avverrà presso il boschetto dei nove pini avverrà di giovedì alle ore 20 e 30 della sera tra il giorno 8 e il 16 compresi di uno dei seguenti mesi marzo aprile o maggio concita conosce la data esatta e l'annuncerà 8 giorni prima quel giorno sarà la festa di un martire dell'eucaristia e coinciderà con un grande evento ecclesiastico nella chiesa tutti coloro che saranno presenti nel villaggio di Garabandal e nelle montagne vicine lo vedranno gli infermi che saranno presenti saranno guariti i peccatori saranno convertiti e gli increduli crederanno sarà il più grande miracolo che Gesù avrà mai fatto per il mondo a causa del miracolo grazie a tutti